Mancano pochi secondi. Forza, dalla linea dei tre punti, ci prova il Capitano! Il di nuovo! Abbiamo dei tre punti! Signore e signori, con numero cinque, il Capitano Dario Raggiotti! Sono un dio! Hai la gamba! Ma che mai hai bozzato la macchina? Sono caduta per colpa tua! Mia? Tu sei caduta perché due ruote non lo reggono il tuo culo. Fatti un tiro. Un altro incidente! No, questa volta rischio di una condanna, te lo dico. È colpa mia se spaccia una macchina ogni sei mesi. Piano! Ti condanno a tre mesi di lavori socialmente utili ai Salesiani. Avvocato! Che c'è? E se non ci vado che succede? Io dai galera. Eh? Ecco il vostro allenatore. Giorno. Cioè non c'è una squadra. Io non sono un allenatore. E quelli non hanno le gambe. E che differenza fa? E li voglio pronti per il campionato. Che inizia a fare tre mesi. Ciao! Isabella! Ciao! Sei tornata! Scusa eh? Lo so chi sei. In effetti nella zona sono abbastanza famoso. Famoso per essere uno stronzo. Se ti piace Isa, noi ti possiamo anche dare una mano. Ma in cambio, tu ci alleni. Affare fatto. E' bravissima. E' un chiuso in pollo. Ti hai pagati. Chi io? Ora che so cosa significa giocare qui sopra, ho capito che siete dei grandissimi. Senza controllo. Isolati e derisi dal mondo. Guarda ragazzi. Li hai fatti felici. Ora manca solo un vero presidente. Ma non ti posso aiutare io? Ci penso da solo. Non gliel'avevi detto che è una squadra di disabili? Perché che differenza fa? Se ne innamorerà come me ne sono innamorato io. Dario, da domani sei un uomo libero. Hai scontato i tre mesi. Non ti vedremo più io. Io non sparisco. Ti devi fidare di me. Ho trovato quella giusta.